E' passato un po' di tempo da quella squadra che facciamo, quindi col tempo forse anche qualche acciacco, qualche problema mnemonico se vogliamo, un pochettino insomma, quello che qualcuno dice con fare spiritoso, che chiama con fare anche affettuoso, un po' di rincoglionimento, mettiamola così. Oggi se facessero la squadra, magari il commissario Mettenella, il sovrintendente Amato, Guerra, Ramaglia, Caffasso, camminerebbero tutti col girello, qualche problema con la tendiera, Ramaglia? Chi ne sai? Ma insomma, per dire che insomma un po' di tempo è passato, qualcosa di quella cazzimma, chi lo sa. Però, però, vi volevo lo stesso fare gli auguri a voi, amici e fan affettuosi sempre con la squadra e con chi l'ha fatta. Auguri affettuosi quindi di Buon Natale. per, per, eh? Ah vabbè, ho capito, sì sì, scusa, scusa. No, Natale, non è Natale, certo. Allora, una bella, buona, affettuosa epifania per tutti i fan della squadra e non solo per, eh? Ma se mi interrompi sempre? Vabbè, vabbè. Allora, va bene, va bene, non è epifania, quindi, va bene, buon ferragosto a tutta la squadra, fan della, eh vabbè, ma così allora, vabbè, buon tutto, va bene, buon tutto, Pasqua, Natale, Capodanno, buon tutto per tutti e per uscirne anche presto da questo incubo.